Ringrazio il Presidente Vinella di aver creato questa situazione sinergica, vorrei qui anche Maria Rosaria che è stata l'origine, a partire dal convegno sul nuovo umanesimo, di questa felicissima congiuntura. Vorrei qui anche il Presidente della Fondazione, vorrei nel senso di Siamo Presenti, prego Generale, Giuseppe, prego, ci avviciniamo, prego Giuseppe, è la nostra giornata felice, quindi il buongiorno nel senso di buono, nel senso di proficuo, perché tra questa giornata noi riusciremo a creare un'interlocuzione sicuramente duratura e sicuramente molto intensa, con il trentaduesimo stormo che ha sede ad Amendola. È la postazione possiamo dire più avanzata dal punto di vista delle tecnologie e degli aerei che vengono utilizzati dall'aeronautica militare, quindi siamo particolarmente lieti e ringraziamo davvero di cuore il Presidente Vinella per avere aperto tutti i portoni, cioè praticamente noi entriamo senza nemmeno renderci conto che entreremo, perché tutte le trafile che sappiamo sono necessarie ci sono state praticamente annullate dalla sua interlocuzione.